Per i comuni pugliesi un milione di euro dalla regione al fine di mettere a punto interventi straordinari di pulizia e di rimozione dei rifiuti dalle strade, soprattutto nei luoghi a maggiore vocazione turistica e sulle principali arterie che conducono nei posti della Movida. Un'ordinanza del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, una firma per trasferire le risorse agli enti. Annunciati inoltre 30 milioni di euro per la strutturazione in ogni comune della Puglia di centri per la raccolta differenziata. Si tratta quindi di un'ordinanza che abbiamo firmato che raccoglie le lamentele di molti cittadini e molti turisti e che dà una risposta finanziaria importante a tutti i comuni che lamentavano di non avere soldi sufficienti a tenere pulito il loro territorio. Aggiungiamo che la Giunta ha stanziato 30 milioni di euro per la strutturazione in ogni comune della Puglia di centri di raccolta differenziata che consentano a coloro per i quali è impossibile la presa in carico del rifiuto dall'abitazione, perché sono abitazioni di campagna, disperse in luoghi distanti, di poter in qualche maniera conferire in modo differenziato il rifiuto anche in queste aree dove la raccolta porta a porta è più difficile. Faccio un appello davvero dal profondo del cuore a tutti i pugliesi. Il Presidente della Regione ha fatto quello che poteva fare, i sindaci stanno facendo quello che potevano fare, l'ANAS sta ripulendo in modo straordinario le strade, le province e tutti i comuni stanno cercando di fare un'operazione straordinaria nel quale nel giro di 3, 4, 5 giorni al massimo si dia una ripulita generale alla Puglia intera che, ripeto, a causa di un malinteso rifiuto della del sistema della raccolta differenziata ha riempito le campagne e zone abbastanza complicate di rifiuti.